il diavolo vuole dividersi perché conosce molto bene la matematica di dio lo ripeto il diavolo conosce molto bene la matematica di dio il diavolo sa che due il numero della forza una famiglia è forte se marito e moglie pregano una chiesa è forte se ci sono famiglie forti e un ministerio è forte se il ministro il pastore prega insieme a sua moglie e sua moglie insieme al marito il diavolo conosce la matematica di dio vuole portare divisione separazione lacerazione non dobbiamo permetterlo vogliamo insieme due pregare e dire io ti respingo nel nome di cristo gesù il signore ho conosciuto coppie che non pregano ho conosciuto famiglie che non pregano e questa non è una illazione non è una supposizione è la mia esperienza ministeriale anche nei diversi seminari che ho fatto sulla famiglia ho scoperto che ci sono addirittura famiglie che neanche quando mangiano ai pasti pregano volete sapere il motivo perché un marito non prega con la moglie la moglie non prega col marito quando gesù dice se due di voi si accordano sulla terra chiedere qualcosa al padre mio quello il padre mio concedere a loro perché uno dei motivi sembrerà strano ma è così si vergognano che strano ora parlo in generale si vergognano io credo che alcuni dovrebbero vergognarsi di altro dovrebbero vergognarsi quando feriscono quelle parole quando offendono quando sono di cattiva testimonianza si vergognano a pregare insieme vergogna di che cosa io mi vergognerei se trattassi male mia moglie se la offendessi se dovessi ferirla ma non mi vergognerò mai 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 di pregare con lei e per lei perché se due di voi marito e moglie si uniscono domandano qualcosa al padre mio che è nei cieli quello il padre mio concederà loro due è il numero della forza io stasera sento forza nel cuore di dire signore benedici le famiglie che sono qui presente